Vito, Davide e Ivana. Tre ragazzi giovanissimi, nel cassetto Tanti sogni e una vita intera da programmare. Tutti accomunati da un tragico destino. Sono morti da studenti. Chi sotto il crollo del soleo della propria aula arrivoli come Vito, chi come Davide e Ivana, nelle case costruite male dell'Aquila, nel terremoto del 2009. I loro genitori non si arrendono, chiedono giustizia, ma soprattutto che andare a scuola significhi stare in un luogo sicuro. Si sono tutti incontrati a San Giuliano in occasione del decennale del terremoto. Ne è venuto fuori un confronto emozionante, in alcuni tratti drammatico ma sempre vincolato alla speranza che non accada un'altra volta. E i comitati in cui si sono riuniti stanno a dimostrare proprio questo. Sono un ultimo atto d'amore nei confronti dei nostri figli, hanno dichiarato a più riprese i genitori che hanno condiviso con tutti il ricordo della tragedia, il lutto e le iniziative messe in campo per cambiare le cose, come una proposta, firma in Parlamento, sulla devoluzione dell'otto per miglia all'edilizia scolastica. Ma non molliamo, lo facciamo per i nostri figli, ha detto Cinzia Scafidi. Il figlio Vito, 17 anni, è morto sotto il crollo del solaio della sua scuola a Rivoli. Adesso a maggio, il 31 di maggio, noi cominceremo il secondo grado. Il primo grado è stato condannato un solo imputato su sette. Noi proseguiamo. Come abbiamo detto tutti qui dentro, non ci interessa uno, due, tre anni di carcere, ma che le cose cambino. Chi ha in mano la vita dei nostri figli ci deve garantire che fa tutto il possibile affinché loro siano sicuri. E finché queste persone non paghino, ma non a livello finanziario, che possano perdere il loro lavoro, che la loro laurea viene messa in un cassetto e non può essere più utilizzata, questo farà cambiare le cose in Italia. Molto toccante anche le testimonianze della mamma di una ragazza, morta nell'incendio scoppiato dopo il deragliamento del treno carico di gas liquido a Viareggio, che ha distrutto un intero quartiere. Aspettiamo ancora un'udienza preliminare, siamo stanchi di questa Italia, di questo sistema che ha aggiunto deve cambiare. Nell'occasione è stato presentato anche il coordinamento nazionale dei comitati dei familiari delle vittime, delle grandi tragedie avvenute in Italia. È stato chiamato Noi non dimentichiamo e al momento conta nove associazioni, compresa quella di San Giuliano di Puglia, preseduta da Antonio Morelli. Perché di questa associazione? Perché bisogna non solo condividere il dolore, ma bisogna rilanciare sul discorso della prevenzione. Perché è stato fatto ben poco da quel 31 ottobre del 2002. Noi riteniamo che le scuole, oggi come sono, e lo ha detto anche il rapporto di cittadinanza attiva, il patrimonio scolastico sta peggiorando e quindi dobbiamo tutti insieme sensibilizzare ancora di più l'opinione pubblica e chiedere alle istituzioni locali e nazionali perché si diffonda la cultura della prevenzione.